E' il capitano della squadra! Eccomi! Sono pronto! Non mi sfuggi! Perché sono il capitano della squadra! E io sono... Shakes! Sai quello a cui piace ficcare il laso negli affari degli altri? Sì! Grandioso! Grazie, Tony! Non parlo di te, Chuck T. Ceperson, ma degli... Degli occhiali Technivision. Quelli che hai addosso sono lo strumento ideale per l'allenamento. Posso... Caricare i giocatori di ogni squadra e ti appariranno davanti. Ho in archivio anche allenatori, giornalisti e tanti altri. Non lo so, Tony. Sto andando fuori di testa con queste cose. Io... Aspetta! Ecco, ora va meglio. Ciao, Tony! Posso provare questi occhiali magici? John J. Johnson Junior! Ti avevo ordinato di occuparti della disinfestazione! La puzzola non è più un problema, Tony. Ci ho pensato io, tranquillo. Quella puzzona se n'è finalmente andata! Ti assicuro che non la vedrai mai più in vita tua! Forza! Ridammi immediatamente quegli occhiali! I Technivision non sono un giocattolo. Si dovrebbero usare per gli allenamenti. O contro gli avversari! Ecco a voi la più grande star di Hollywood! No, davvero, quel poster sarà alto sei metri! È il Matador! Hai segnato dieci gol in quattro partite. Dimmi, qual è il segreto del tuo straordinario successo? Beh, Elena, per giocare al meglio devo apparire al meglio. Sorriso smagliante. Testa gigante! Capelli perfetti! E un'arroganza che non ha rivali! E poi il tocco finale! I miei costosissimi occhiali, fatti su misura per me e unici al mondo! Aio! Nessuno può toccare i miei occhiali! Sono talmente protetti da copyright che se provassi a costruirne un altro paio dovrei fare causa a me stesso! Dai, sbrigati il Matador! Il coach ci aspetta! La perfezione richiede tempo! Si fa più dolce lui in un giorno che io in un anno! A quanto pare funziona! Secondo questa rivista, il Matador è il calciatore più amato di tutta la Super League! Eh? Che c'è? Li sta fanno distribuendo gratis sull'aereo! Ma, com'è possibile? Abbiamo preso lo strike a jet! Il Matador è il più bravo calciatore Tra tutti quanti lui è il miglior! Le mie modifiche hanno funzionato! È una replica esatta dei suoi occhiali! Con l'aggiunta di un po' di magia a Technivision, ovviamente! Sono proprio in forma! Penso che segnerò un sacco di gol oggi! Che schifo, pura puzzola! Ah, io qui non ci rimango! Quella bestiaccia! Ma quanto puzza! Giuro che appena riesco a metterti le mani addosso ti faccio! Accidenti! I miei occhiali sembrano strani oggi Gli avete fatto qualcosa voi? Tranquillo, nessuno ha toccato i tuoi occhiali Ah, non vorremmo ci facessi causa Ok, ora basta, parliamo di cose serie Prima di tutto, dobbiamo organizzare la difesa C'è nessuno? Tony! Non è giusto! Tony, lascia usare gli occhiali che fanno i film persino ai Super Strikers! Non posso giocare con quegli occhiali, però Forse posso farlo io un film? Siiii! Comincia! La Tecnicali ha un attacco veramente forte Si muovono in tanti e spiazzano gli avversari Ma se vanno tutti in attacco La loro difesa rimane scoperta E noi abbiamo l'uomo giusto per fargliela pagare Vero, El Matador? El Matador! Sul serio, ragazzi, c'è qualcosa che non va con i miei occhiali Coraggio, gente! Ora andiamo ad allenarci per la partita! Siiii! Chissà cosa starà progettando Tony Verne quello svitato Primo giorno C'è una puzza incredibile Mi sono infilato i calzini di El Matador nelle narici Per non sentire l'odore Non ha funzionato La prendo io! Ehi, invece no! Cosa potrebbe succedere nella mia prima scena? El Matador! Posso farti una foto? Ehi, ma tu per chi lavori? Perché io compaio soltanto nelle riviste più importanti Code e codini? Oh, ma certo! Mi raccomando, prendi il mio lato migliore Stop! Molto bene! John J. Johnson Junior! Che cosa stai facendo nel mio laboratorio? Oh, ma niente, caro Tony Che schifo! Ma cos'è questa puzza? Non ho voglia di parlarne, va bene? El Matador! Ero libero! Scusami, Shakes Stavo per passartela, ma quel giornalista voleva scattarmi una foto per la copertina di code e codini Ma... di che giornalista stai parlando? Di quel tipo, proprio là Eh? Magari gli bastava soltanto uno scatto Sono sempre stato fotogenico Beh, comunque, ottimo allenamento ragazzi Io vado a fare la doccia Voi avete visto un giornalista? Secondo quanto scrive la rivista Gossip Inutile El Matador sta mostrando tutti i segni dell'esaurimento da star L'ho preso per un amico, ok? Ah sì, e come si chiama? Non è importante Vi dice che i segnali evidenti di un esaurimento nervoso in corso sono la paranoia Era convinto che gli avessero toccato gli occhiali Le allucinazioni Come il giornalista invisibile di code e codini, intendi? Dovremmo aspettarci qualche altra stranezza, quindi La smagna di distruggere stanze d'hotel Ma... contano anche gli spogliatoi? Che c'è? Mi spiace il matador, ma lo facciamo solo per il tuo bene Di che parli? Di attuare un intervento drastico, acciuffatelo! Ma quante volte avete bisogno che ve lo ripeta, ragazzi? Un qualche misterioso intruso ha manomesso i miei occhiali Una puzzola ha messo a suo quadro lo spogliatoio E il giornalista mi ha scattato una foto Negare l'evidenza è un segno di esaurimento da star Siete soltanto gelosi perché hanno scelto me per la copertina di code e codini Ho controllato, non esiste una rivista con quel nome Per forza, la coda di cavallo non si usa più dagli anni ottanta Come osi dire questo? Eh, Shakes, tu mi credi, non è vero? Eh, io... Bene, vorrà dire che andrò a parlare con qualcuno che sa cosa significa essere una grande star Ok, ok, abbiamo capito Beh, è andata bene Ci penso io, ragazzi Sbrigati, io non lo raggiungerai A meno che tu non sappia chi è la grande star con cui è andato a parlare Ma ci troviamo a Hollywood Potrebbe essere chiunque Tranquilli, c'è solamente una grande star a cui è il matador da ascolto Oh, è il matador È dura essere una grande stella del calcio Ricchissima, incredibilmente attraente e incompresa So come ti senti John J. Johnson Jr. Tony non si fida mai a lasciarmi fare nulla Però adesso che lui non c'è Ma io credo comunque in me stesso A prescindere da quello che dicono gli altri Vai sempre in giro vestito così Beh, è tornata la moda degli anni Ottanta e così anche lo spandex Dovresti dirlo anche a North Show La mia coda è di grande tendenza A proposito, congratulazioni per la copertina di code e codini Oh, ti ringrazio Ehi, e tu come fai a saperlo? Lo sai, le voci corrono a Hollywood Ok, è la mia grande occasione Cosa serve per fare un bel film? Un po' di dramma? È il matador, che c'è che non va? I miei compagni pensano che io sia impazzito Ma la senti anche tu questa musica? Il dramma è a posto Che altro c'è? Azione Dei ninja? E ora che cosa facciamo? John J. Johnson Jr. Che cosa volete? Siamo gelosi della tua bella coda di cavallo Daccela subito oppure ne affronterai le conseguenze Quindi volete la mia coda, eh? Venite a prenderla Come preferisci Siamo amici, no? E gli amici non dovrebbero litigare Giusto, amico? No, pessimo È il matador? Siamo preoccupati per te Non arrabbiarti Così sembro sua madre È il matador All'interno di una squadra deve esserci fiducia Quello che cerco di dire è che Non credo che tu sia... Eh? Pazzo! Shakes! Aiutami, ti prego! È il matador? Non è finita qui, è il matador La tua coda di cavallo sarà nostra Shakes, quei ninja malvagi volevano prendere la mia coda È il matador, dovresti guardare questo Oh, accidenti Klaus aveva ragione Sto avendo davvero un esaurimento da star La partita con la Tecnicali è domani Shakes, che cosa posso fare? Forse è meglio se non giochi Non dire nulla al coach, ti prego No, e poi non possiamo buttare via l'opportunità di battere in casa la Tecnicali Dai, ce la faremo Sono ancora il tuo compagno d'attacco affidabilissimo che segna sempre Andrà bene, vedrai Grande partita oggi all'Up Stadium A quanto pare la Tecnicali manterrà la solita formazione d'attacco Ma il matador sembra in forma smagliante Non avranno alcuna chance Allora, Shakes, alla fine che è successo con il fanatico delle doci? Ha capito il nostro punto di vista Dici che è in grado di affrontare la partita Ciao ragazzi, di che state parlando? Sì, come vi dicevo, sta benissimo Secondo giorno La puzza ancora non va via Ma ho bisogno di rimanere concentrato sulla missione A noi due ora, al matador Si comincia E sono partiti Bella mossa, Shakes È anche molto efficace Per il matador è la prima opportunità della partita È completamente libero E voi da dove sbucate? Direttamente dal tuo peggiore incubo Shakes, te la ripasso Invece di tirare Il matador passa la palla a un uomo marcato Quindi funziona Sono davvero un genio Sì, ti piacerebbe fermarmi, eh? È il matador! Ero completamente libero Sì, lo so Guai in arrivo per i Super Strikas Ottime giocate da parte dei ragazzi della Tecnicali La Tecnicali segna il primo tiro Mentre il matador delude nell'intero primo tempo Non stai reggendo bene sotto pressione Devo dire al coach che se Ah, fai quello che vuoi John J. Johnson Jr. aveva ragione Devo credere in me stesso a prescindere dalle opinioni degli altri Aspetta, quando è che l'hai visto? Ieri notte, prima che arrivassero i Ninja Non era reale neanche lui, eh? Sì! Se il matador ha detto la verità sulla puzzola, allora... Sì John, chi c'è sulla copertina di Code e Codini questo mese? Ma è il matador, ovviamente Cioè, mai sentito parlare di Code e Codini? Eh, mio vado, ciao Oh no, oh no, 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 no Shakes sa qualcosa sulla Tecnivision Devo rimediare Ehi, credevo che quegli occhiali servissero solo per gli allenamenti Tony! Perché mai Tony ci avrà chiesto di incontrarlo qui? Tony! Oh, benissimo! Va molto meglio Che cosa hai fatto? Io nulla, è stata la puzzola No, sto parlando degli occhiali di El Matador Pensavo aveste bisogno di un piccolo aiuto per... ti spiego... vincere! No, smettila di lagnarti! Avete segnato! Io voglio guadagnarmeli i miei gol Ora ascoltatemi Proprio in questo momento staranno sostituendo El Matador State calmi, difendete il risultato ed è fatta! Ci sono delle domande? Sì... che cos'è questa puzza? Mi pare evidente che uno di noi stia affrontando dei seri problemi Ok, va bene, lo ammetto Sono ossessionato dalle rifiste di Gossip Ho bisogno d'aiuto Ma per caso stavate parlando di El Matador? Ragazzi, ho appena visto una puzzola Che notizia favolosa Ma non capite? El Matador diceva la verità sul disordine nello spogliatoio E c'è dell'altro John J. Johnson Jr. mi ha appena parlato della rivista Code e Codini Come fa a conoscere una rivista inventata? La conosce perché è stata una sua idea Mi spieghi che sta succedendo? Ehi, ehi, ma che fai fratello? Ok, sta calmo John J. Johnson Jr. Devi parlare con El Matador prima di Shakes Cosa? Ciao El Matador Ti avviso, non mi sento tanto bene Perciò quando mi rivedrai tra qualche minuto Potrei sembrarti un po' fuori di testa Conosci le regole Shakes Adesso chiamo i miei abogu Quindi mi raccomando Tutto quello che dirò Abbiamo bisogno di te nel secondo tempo Ok, se n'è andato Tony Verna ha scambiato i tuoi occhiali con delle specie di visori per la realtà virtuale Quindi non sono impazzito Riesci a giocare senza gli occhiali? No coach Allora dovrò sostituirti Ma Tony Verna ha sabotato la partita Vi ha fatto credere che fossi fuori di testa E soprattutto ha toccato i miei occhiali Lo prego mi dia la possibilità di fargliela pagare Le due squadre scendono in campo per il secondo tempo E il primo a uscire è El Matador Sono molto stupito dalla sua presenza Dopo la performance nel primo tempo Cosa? Non l'hanno sostituito? Oh beh, El Matador Stai per scoprire di cosa è capace questo congegno meraviglioso El Matador parte all'attacco Riuscirà a ritrovare la concentrazione? Per come stai giocando mi stupirei se riuscisse a trovare la palla Hai superato due giocatori E allora ecco ne dieci Cosa farà secondo voi? Passerà la palla a se stesso Technivision dovrebbe farlo giocare peggio, non meglio E allora aggiungiamo degli effetti speciali Per rendere la cosa più interessante Nessuno può toccare i miei occhiali Nessuno può toccare i miei occhiali Ah! Passalo a me, il matador! Come faccio a sapere che sei il vero Cool Joe? E se ti dico che non leggerei mai Code e Codini? Sei proprio tu! Ripassamela! Prendi questa, cagnolino! Fantastico! Incredibile! Inafferrabile! Che splendida performance! È vero! Le provezze realizzate oggi da El Matador entreranno negli andali! Come potrebbe peggiorare ancora questa giornata? Ecco come! Amico! È stato il gol più pazzesco che abbia mai visto! Già, meglio un gol pazzesco che essere impazzito! Scusa se non ti abbiamo creduto! Ma tranquilli, era tutta colpa di Tony! La diamo una lezione a quello svitato? Beh, adolescente dispettosa ha un articolo sui dieci modi per fetticarsi di un'ex migliore amica! Non vi preoccupate, ho già in mente un piano per farla pagare a Tony! Venite, gente! Vendo occhiali ultra tecnologici per la realtà virtuale! Così magari riesco a recuperare un po' di soldi da questi stupidi cosi! Capo, ho trovato delle persone interessate ai suoi occhiali magici! Oh, ma siete benvenuti! Posso sapere con chi ho il piacere di fare affari? Con gli avvocati di Elma Tador! Vorremmo parlare con lei di violazione del copyright! Ma cos'è questa puzza? Non ho affatto voglia di parlarne, va bene?